Siamo al momento del nostro ospite, abbiamo in studio questa sera Benedetto Casilo con il quale parliamo di una manifestazione storica però da qualche tempo un po' bistrattata. In questi giorni, qualche anno fa, la Piedicrotta avrebbe vissuto il suo momento? Non vorrei sbagliare il tempo dei verbi ma oggi era Piedicrotta una volta. È incredibile parlare con i ragazzi, con le nuove generazioni e dire Piedicrotta restano così. Ma che è una cosa strana, lontana. Invece fa parte proprio delle viscere della gente di Napoli e invece non se ne parla proprio più. Che cosa è successo negli anni che ha portato poi a questo declino? Io l'ho vissuto qui, ho visto mano a mano come moriva la Piedicrotta. Vedevo i carri, gli ultimi carri che sfilavano in mezzo al traffico, il traffico impazzito, la gente che cacciava la testa suonava e diceva, dovevano passare, c'era l'automobile che sorpassava il carro. Certo c'è stato anche un imbarberimento dei costumi, degli usi, assolutamente sì, ma anche una volontà probabilmente, tra virgolette, politica e culturale che ha portato a tutto questo. Ma io credo che un popolo che perde le proprie origini, le proprie radici, sta da sta accorto. C'è però una parte della città che vuole tenerla viva questa tradizione. Io vorrei veramente fare un complimento, un applauso ai miei amici di Piedicrotta, di Mergelline, la gente del popolo che quest'anno ha dato vita forte alla Piedicrotta che ancora esiste, soprattutto quello che riguarda gli aspetto della religiosità popolare. Mamme che hanno accompagnato i figli per strada per fare i vestitini di carta, i fiori di carta, un'antichissima tradizione. Hanno sfilato per il quartiere, tra tante difficoltà, ancora una volta con il traffico. Qui c'è stata una grande voglia popolare di rinascita. E domani sera con tanti artisti, Benedetto Casillo, ma tanti altri, l'appuntamento con la serenata alla Madonna. Sì, oramai è una tradizione, stiamo vedendo queste immagini, è una grande tradizione. Sono 31 anni che in chiesa alle 9 di sera facciamo questa serenata alla Madonna, che è una perla preziosa, piccolina ma preziosa, di quella che era una volta la grande devozione popolare. La Madonna di Piedicrotta è in solenne processione a mare ogni 50 anni, qualcosa di straordinario. C'è la sfilata dei pescatori, la sfilata dell'antico mantello. È qualche cosa da vivere a livello sentimentale, ma più che sentimentale è proprio di devozione popolare, per quanto ci riguarda. E poi carità, poi ognuno fa le proprie scelte. Un tuffo nel passato è anche questo libro scritto da Benedetto Casillo. Si chiama l'Ebre che è stufatta. All'epoca di questo fatto è proprio una raccolta di cose quando non c'era la televisione. Come vivevamo noi scugnizzi napoletani a Tornufuga, l'ora sera, ascoltando proprio i racconti che ci facevano i nostri genitori. E il più delle volte erano racconti di realizzosità popolare. Speriamo che non si perdano del tutto, che riescano a... Noi ce lo auguriamo, ci mettiamo il nostro per fare qualcosina, poi... Grazie, grazie a Benedetto Casillo. Grazie, grazie a voi per l'attenzione.